Ciao, mi chiamo Pamela. Mi è successa una disavventura quando ho compiuto 18 anni. La notte prima del mio compleanno, ho mangiato qualche cibo andato a male. Così stavo male e ho avuto le vertigini. Ho anche cominciato a vomitare. Poi ho chiamato il taxi e sono andata all'ospedale. Dopo dieci minuti sono arrivata all'ospedale ma l'avventura per me non era finita. Perché dopo che mi sono registrata nella sezione dei bambini, sono arrivate le 12 e ho compiuto 18 anni. L'infermiera mi ha detto che dovevo rilegistrarmi nella sezione dei adulti. Così ho dovuto rilegistrarmi e ci ho messo molto tempo. Dopo una serie di sfortuni, finalmente ho visto il dottore e mi ha fatto un'iniezione. Grazie. Grazie.